... Racconta la storia della destra italiana l'ultimo libro di Paolo Macri, ce ne parla Vittorio Marotta. Un'analisi su quello che è stata e che è tutt'oggi la destra nella politica italiana. Un lungo percorso che va dalla caduta del fascismo e dalla questione monarchica fino alla conquista del governo da parte di Giorgia Meloni. In mezzo alla nascita del movimento sociale, figure come Giorgio Almirante, Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi. A ripercorrere questo periodo il nuovo libro di Paolo Macri, la destra italiana da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni. Mezzo secolo in cui la destra ha una rappresentanza politica molto debole ed è delegittimata sostanzialmente e poi questa sorta di miracolo per la destra nel 1994, cioè un'improvvisa raccolta di voti. Un libro corretto che analizza tutta la storia della destra italiana, da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni e quindi apre ad una riflessione su come potrà nascere il partito conservatore italiano. Il volume è stato presentato in occasione dell'iniziativa Il sabato delle idee, un momento utile per riflettere sulle prospettive della destra italiana. Oggi ricominciamo con un dibattito su un argomento importantissimo che riguarda quelli che sono gli ultimi decenni della nostra vita interpretandolo e facendolo interpretare dai lustri relatori che rappresentano tutto l'arco costituzionale.